Qui entriamo in una suite. Esatto. Meravigliosa. Una delle sei. Guardate che bello. Funzionante chiaramente. Of course. I can imagine. Beautiful. Guarda che bello. Dettaglio, c'è un dettaglio. E poi è questo po' meraviglioso che dalla finestra si vede. Esatto. È una cosa. C'è una lanche, insomma. Sì, che sarebbe più. Sì, di là. Eccola là, lo vedi là in fondo? Di là l'avevi proprio il po'. Bellissimo.